Cari amici ben ritrovati dal vostro Giuseppe De Vittis, l'ondata fredda è confermata ma più sbilanciata verso l'Adriatico Centro Meridionale, regioni meridionali in genere, sul resto del territorio invece un po' più ai margini. Guardate cosa accadrà appunto sul nostro territorio, poche saranno le variazioni nella giornata di sabato, tempo abbastanza tranquillo, poche differenze per quanto riguarda lo stato del cielo con temperature massime accettabili, freddino ma comunque accettabile, beh invece il freddo ci sarà ancora durante la notte e al primo mattino direi anche abbastanza freddo nonostante l'aumento perché l'anticiclone da ovest ha guadagnato terreno verso la penisola italiana, ecco perché poi l'ondata fredda colpirà, sarà veloce e colpirà soprattutto il centro-sud, in quota invece le temperature massime.